Benvenuti a tutti ragazzi, sono Everett, non sapete cosa è successo, praticamente ho fatto le ultime due missioni, ovviamente senza uccidere nessuno, le ho registrate, bellissimo, chiudo la registrazione, vado a rivedere i video, anzi i video, e sono senza audio. Quindi ok, li riportiamo, stavolta sperando che il microfono funzioni, e andiamo. Allora, siamo appena ritornati all'Ampitz Pub e qui abbiamo Seselia, che ci riconosce, scusate, e ci dice praticamente in breve che Evelok, Pendleton e il sacerdote Martin hanno fatto un casino, praticamente, cosa è successo? È successo che hanno portato tutti in cortile, dicendo che avrebbero dato un extra alla servitù, e invece non è stato così. Hanno ucciso sia Wallace che Lydia, questo ovviamente perché io non ho ancora ucciso nessuno, se no i finali o comunque ciò che succede durante le missioni cambia. Io adesso devo salvare sia Piero che Sokolov, e lo farò in questo modo. Uso Distorsione, prendo tutto quello che c'è da prendere e scendo. Distorsione livello 2 è un'abilità veramente, veramente utile, perché non solo rallenta il tempo, ma lo ferma completamente. Quindi questo vuol dire che io posso passare davanti alle guardie inosservato. Fatto ciò, dopo che abbiamo preso il disegno di Emily, che è una cosa facoltativa, faccio un'altra cosa facoltativa. Prendo i progetti dei prototipi che si trovano nelle vecchie stanze di Havelock, usiamo sempre visone oscura, mi raccomando, e andiamo da Piero, Balcone del Laboratorio di Piero. Perché? Perché loro, sia Piero che Sokolov, insieme hanno costruito un macchinario, che sarebbe questo qua, che permette o di ridurre tutti i nemici sulla mappa in cenere, oppure di stordirli. Io ovviamente sceglierò di stordirli, e preparo già tutto l'occorrente. Cioè, se batto l'olio di balena, lo riempio di olio di balena, e andiamo a parlare con Piero e Sokolov, che ci diranno, eh, siamo contenti di vederti, abbiamo messo a punto questo strumento per, come arma di guerra, però può essere utile anche nell'occasione in cui siamo assediati dai tallboy e dalle varie guardie. Allora, ecco i progetti, gli porto i progetti a Piero. Dice, incredibile, anche se penso li abbia fatti lui o li abbia fatti Sokolov. E adesso possiamo decidere o se bruciarli, o se stordirli. Io dico di stordirli, però, come ho detto prima, dobbiamo fare un ulteriore favore a Piero e Sokolov. Cioè, vabbè, questa runa la prendo io. Prendere questo serbatoio di olio di balena, fare sempre attenzione ai tallboy che sono dappertutto, anche alle guardie, ovviamente. Rilasciare lo scudo, e mettere il serbatoio. Allora, in questo momento, il macchinario succhia tutto l'olio di balena possibile. Noi veniamo flashati, e però tutti gli altri nemici sulla mappa storditi. Quindi non abbiamo ucciso nessuno, abbiamo stordito tutti, e adesso possiamo vagare per la mappa indisturbati. Un'ulteriore cosa che possiamo fare, oltre ad andare da Calista, che ci dirà che Samuel è vivo e che ci sta aspettando dietro lo scoglio, vicino al fiume. Esatto. Tranquilla, Calista. Usiamo il segnale e Samuel, come potete vedere, arriverà da dietro lo scoglio, con la sua barchetta. Detto ciò, nella lettera di Emily dice che l'hanno portata a King Sparrow, che è praticamente un'isola su cui il Lord Regente stava costruendo un faro. Vi faccio vedere che anche se c'è scritto Evelock, qua non c'è Evelock, quindi non iniettatevi il sangue negli occhi a causa della vendetta. andate direttamente o da Samuel o da Piero, io direi di andare da Piero così ci fa i dardi narcotizzanti. Questo è Sokolov. Una volta abbiamo discusso di un sistema di segnale per comunicare dalla torre di Envy al di là del fiume. Esatto, che è quello che ho usato io prima e che Samuel ha riconosciuto. Va bene, devo costruire una cosa per me, e cioè i dardi narcotizzanti, che sono, diciamo, secondo me, facoltativi in questo frangente, perché con distorsione di livello 2, va bene che brucia un sacco di mana, un sacco di potere, va bene usarlo tipo 3-4 volte solo per finire la missione. Quindi, l'ammiraglio controlla esercito, Marti nell'alto sacerdote e Pendleton ai favori di aristocrazia e Parlamento. Quindi praticamente un casino pazzesco. Esatto. Va bene, andiamo sull'isola di Kingsparrow. Io avevo intenzione di splitare, cioè di dividere questi due video, c'è questa missione che si chiama I Lealisti e l'isola di Kingsparrow. Però, visto che l'abbiamo fatto veloce, direi di non farlo, direi di andare direttamente all'isola di Kingsparrow. Nemici uccisi, civili uccisi 0-0, nessuna uccisione, fantasma, quindi possiamo andare all'isola di Kingsparrow. Samuel adesso ci dirà delle informazioni preziose. Direi di no. Ascoltate, eh. Quando tutto sarà finito, forse ci rivedremo. Poi adesso ci dirà, salutami Emily, eccetera eccetera. Appena scendiamo dalla barca ci dice buona fortuna, anzi, salutami Emily. Eccolo qua. Non avrà certo tempo per vecchi come me. Allora, vi dico, questa è la missione a caos basso. Cosa vuol dire? Vuol dire che, visto che non abbiamo ucciso nessuno, non ci saranno conseguenze per quanto riguarda questo tipo di missione. Ovvero, se avessimo ucciso persone, o meglio, un sacco di persone, questa sarebbe stata una missione a caos alto, e quindi Samuel ci avrebbe detto, eh, ehm, spero di non incontrarti più, non mi è piaciuto affatto servirti, eccetera eccetera. E soprattutto, eh, cambierà il finale, se, ehm, o meglio, cambierebbe il finale se fosse a caos alto. Però, visto che a caos basso, è molto più, ehm, facile come missione. O meglio, è sempre difficile, però, è molto meno variegata, diciamo, come missione. Perché? Perché abbiamo fatto i bravi e non abbiamo ucciso nessuno. Allora, è il momento di usare di nuovo distorsione. Perché? Perché abbiamo, ehm, diciamo, neutralizzato il muro di luce che c'era qua. Quindi, saliamo, e ci trasportiamo qua sotto. Qua siamo abbastanza al sicuro, a meno che non vi facciate vedere. Per disattivare quel muro di luce, questo qua, vedete che c'è un muro di luce attivo. Noi dovremmo usare distorsione di nuovo, usare traslazione lì sopra, e magari neutralizzare la guardia che c'è qui dentro. Anche se è facoltativo, potreste anche non farlo. Fatto ciò dovete disattivare, appunto, il muro di luce che sta qua sopra. Io mi prendo mana, vita, eccetera, eccetera. E poi usare di nuovo distorsione per tornare giù. Usala, grazie. Passiamo sopra. Occhio sempre alle guardie, ragazzi. Ce ne sono un macello. Vedete che ci sono guardie dappertutto. Usate dardi narcotizzanti, non usate, rifate quello che volete. In ogni caso, meglio che non vi vedano, Salve. Ovviamente, non me ne frega niente se ci vedono o no, scoprono corpi tramortiti o cose del genere. A noi interessa arrivare alla fine della missione molto velocemente. E facendo così, ci arrivate ben presto. Vi faccio vedere un punto molto utile per finire la missione, cioè questo. Così bypasserete le guardie molto velocemente. Aspetto che la guardia se ne vada di là. Se no, faccio così e la bypasso bellamente. E la bypasso anche così. Quindi, noi siamo arrivati senza rompere le palle a nessuno al faro. Usando l'ascensore saliamo e siamo praticamente nell'ultima parte della mappa dell'ultima missione. Quindi, stiamo arrivando alla fine. Vi faccio vedere un piccolo passaggio che ho scoperto dopo le mie varie run che ho fatto su Dishonored. Ed è praticamente un metodo per togliersi togliersi di mezzo tutta questa parte di mappa. Tanto l'ho scoperto a caso cazzeggiando. Praticamente usate traslazione qua poi usate tras... scusa. Usate traslazione lì sopra. Usate di nuovo traslazione lì sopra. e poi di nuovo qua sopra. Visto che con il salto anche doppio non ci arrivate. Vabbè, usiamo comunque. E ragazzi, siamo praticamente alla fine della mappa. Non abbiamo dovuto attraversare niente. noi ci buttiamo dentro questa porta e sentiremo Evelok parlare da solo. Perché da solo? Perché? Perché Lord Travel Pendleton è morto grazie al veleno che Evelok gli ha messo nel bicchiere e lo stesso l'alto sacerdote Martin. Praticamente questo pazzo di Evelok ha ucciso tutti. Ha ucciso tutti noi non abbiamo potuto impedirlo però noi lo neutralizziamo e prendiamo la chiave della stanza di Emily e andiamo ad aiutare appunto Emily. Evelok lo lasciamo lì perché è svenuto. Salviamo Emily e abbiamo finito il gioco ragazzi. diventerai una bravissima imperatrice e adesso ascoltiamoci tutta la fine tutto il finale narrato dall'esterno non avendo ucciso nessuno nella registrazione prima mi è venuto fuori mani pulite come achievement e niente azioni speciali hai salvato Emily. Continuiamo fine e godiamoci il finale a caos basso senza aver ucciso nessuno e avendo salvato Emily. Così termina l'interregno Emily Coldwin prima succederà al trono a sua madre dopo una stagione di tumulti Corvo tu sarai al suo fianco per guidarla e proteggerla da coloro che vorranno sfruttarla o farle del male hai osservato e ascoltato quando altri avrebbero urlato di rabbia ti sei fermato invece di colpire così debellata la peste con Emily ascesa al trono per merito tuo arriva unità dell'oro guardate Pier e Sokolov che sperimentano l'antidoto alla peste Carnau e sua nipote Callista che si riabbracciano Samuel che ha trovato impiego come barista decenni dopo quando i tuoi capelli saranno bianchi lascerai questo mondo l'imperatrice Emily Emily la saggia all'apice del potere deporrà le tue spoglie nella tomba della madre poiché per lei fosti ben più di un protettore reale addio corpo ragazzi questo è un signor gioco spero che vi sia piaciuto tanto spero almeno la metà di quanto è piaciuto a me va bene intanto che scorrono i titoli di coda vi invito a mettere mi piace a commentare e scrivervi e a guardare la prossima serie cioè Dishonored 2 dai alla prossima ciao a tutti ciao a tutti Grazie per la visione!